Salve a tutti ragazzi, qui è il vostro Silvio 92 e ci vediamo oggi in un nuovo video su Warzone Purtroppo, con un giorno di ritardo, perché mercoledì sera non era a casa mia, ero fuori per lavoro Oggi vi porto il video sull'operazione Monarch, ovvero l'evento che ha introdotto King Kong e Godzilla su Kalden Quindi come sempre avremo un evento che dura due settimane in cui avremo delle missioni da fare che ci sbloccheranno alcune ricompense E alla fine, quando abbiamo sbloccato tutte le ricompense, ci darà il progetto di un'arma Quindi non perdiamo altro tempo e andiamo subito a vedere le missioni da fare Allora, come vedete qui in basso, ce ne sono otto Allora, la prima dice, usa tre volte una serie di uccisioni, dispositivo Titano Scream Allora, in pratica, lo vedrete dopo nel video, in game Se fate dei danni a King Kong o a Godzilla Sulla destra ci saranno delle ricompense da sbloccare La prima sarà la maschera, poi saranno le corazze, poi altre cose L'ho dato tra l'altro E l'ultima è il dispositivo Titano Scream In pratica, se sbloccate quello di Godzilla Caricherete il suo raggio e potete spararlo O su King Kong o per la mappa per uccidere i nemici Dall'altro lato, se sbloccate quello di King Kong Lui vi lancerà dei sassi enormi Sempre sulla zona dove voi deciderete In pratica avrete un paddino e andrete a scegliere sulla mappa La zona dove volete far applicare l'attacco Quindi questa è la prima missione Dobbiamo farlo per tre volte, io l'ho già sbloccata Inflitci 135.000 danni totali a Kong negli eventi Furia Titanica In pratica, quando sparate al Titano Questi si arrabbiano e a un certo punto ci sarà questo evento Furia Titanica In questo evento, se continuate a fare danni Accumulerete questo E quindi vi sarà utile per finire questa missione Recupera 3000 informazioni Monarch Come vedete nel video ci sono o delle casse O dopo la fine degli eventi Furia Titania Ci saranno delle casse che scenderanno E se le aprite vi daranno dei simboli dell'operazione Monarch In pratica queste sono le informazioni Monarch E dobbiamo raccogliene 3000 Inflitci 135.000 danni totali a Godzilla negli eventi Furia Titanica Quindi è la stessa cosa che abbiamo detto prima per Godzilla Dobbiamo farla anche su King Kong E avrete le due missioni Gioco Operazione Monarch per 6 ore Molto facile Inflitci 500.000 danni ai titani Quindi giocate, sparate a entrambi durante la furia O in modalità normale Questa missione sarà fatta Usa una volta una serie di uccisioni Il dispositivo Titanum Scream Quindi come vi ho detto prima Sparate a titani Sbloccate tutte le ricompense Alla fine vi darà lo scream E utilizzatela Piazzate 12 volte nella top 30 Quindi semplicemente giocando Dobbiamo fare minimo 12 partite In cui dobbiamo classificarci nella top 30 Alla fine quando avrete sbloccato le 8 missioni Vi darà questo progetto del fucile tattico Bravo Quindi ragazzi Adesso vi lascio alla partita E mi raccomando Fatemi sapere che cosa ne pensate di questo evento Nei commenti Bella Andiamo Che volete prende Che volete prende? No Per te scendere a prendere l'elicottero Ehm... che dobbiamo fare? Andiamo a sparare uno dei due bricchioni A me stai ci piaceremo Che preferite? Andiamo a pick? Beh ma è una pick Beh andiamo a pick Cioè si può dire il pisello duro Che si può fare Fai un fame Fai un po' d'armi così Eh, così rifacciamo un po' d'anni Vai, vai, sto arrivando Oh, 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 via, via Spara, spara Italo in testa, italo in testa Va incazzato Ah, va lì Mi aiuto, vengo una pusha Fì gente, fì gente Perché si facessero... Gassare i loro questi Miglia, tu cazzo è andato, sto bastardo No, no, no Abbastardo figlio di droga Traccato Che palle Lo cazzo è andato Abbastardo figlio delle informazioni, ringrazio Oh, ma è... Io ho sbloccato il cazzo qua Ah, ah Buono Ciao Wow Non lo usavi prima? Eh, no, il cazzo di King Kong Ho... Ho sbloccato Vai L'ho lanciato a... A Godzilla Ok Un cazzo di King Kong Un cazzo di King Kong Un cazzo di King Kong Attacco a crappolo alleato Attacco a crappolo alleato Raga, qual'è il piano? Eh, la prima cosa... Fuggiamo dal raggio qua Eh, che cazzo Vabbè, fammi vedere Vai Ma io sto cercando di andare da Godzilla Raga, questi sono due, qua se ne è la Jeep Uno l'ho fatto Arrivo Vabbè, fammi vedere ho lanciato il raggio di Godzilla C'è un soldato nemico Dove? Ha caduto la Jeepers Vabbè Muori C'è un muro di dietro Sto bastardo non mi fa vedere neanche il raggio di King Kong C'è una era di Kling Kong Buai Forse sono in arrivo Non vedi come spara il gorzillone E tu me lo prendi No, ecco la serie di uccisione Ah Cioè? Eccola sta qua La serie di uccisione Prendilo qua Ah, mo la sblocchiamo, dai Un lancio, raga Accensione in alto Un lancio Anche a monti Torni Perfetto Perfetto Ecco Un lancio Un lancio Un lancio Un lancio Che cazzo è sto coso? Il nostro Sì sì l'ho buttato io Vai Ho attivato il coso di Ragazzi voglio attivare il raggio Voglio attivare il raggio Abbiamo preso tutte le Tutte le Come cazzo si chiama Tutte le ricompenze No non tutte Sì 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 L'abbiamo sbloccato La raga tutte 19 metri 19 metri Oh fammi entrare 2 metri al metro È qua da me È qua è qua Eh raga non c'ho piastra Un attimo Cazzo è pieno di roba Fatto 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 Ah cazzo non rientrate più voi mo Ah no Deve si le sa Hanno fatti lo di qua Hanno fatti lo di là Pingalo pingalo Eh non me lo fa pingà Eh l'ho visto l'ho visto Eccolo 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 Ah la terza tenta Eccolo Una terra Ah non c'è granate Se vuoi aver tirato una cassa muni Dove c'è un bel No Indie No Ce n'hai troppi Ce n'hai uno qua pure Oh l'ho fatto uno Il mio ultimo Peccato Ah peccato Bella voglio Bella dai comunque Ah Kingo Kingo Go 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 E' il purmino De mozzarella Pazze e puzza Pazze e puzza E poi era l'ultimo Pazze e puzza Pazze e puzza Pazze Pazze